prima che fabio feroni non più assistito dal senno antico si fosse indotto a prendere moglie per lunghi anni mentre gli altri cercavano un po di svago dalle consuete fatiche o in qualche passeggiata o nei caffè da uomo solitario come era allora aveva trovato il suo spasso nel terrazzino della vecchia casa di scapolo ove tra tanti vasi di fiori erano pur mosche assai e ragni e formiche altri insetti della cui vita si interessava con amore e curiosità soprattutto si spassava assistendo agli sforzi sconnessi di una vecchia tartaruga la quale da parecchi anni sostinava testarda e dura a salire il primo dei tre gradini per cui da quel terrazzo si andava alla saletta da pranzo si sa aveva pensato più volte il feroni chissà quali delizie si immagina di trovare in quella saletta se da tanti anni dura questa sua ostinazione riuscita con sommo stento a superare l'alzata dello scalino quando già poneva sull'orlo della pedata le zampette sbieche e raspava disperatamente per tirarsi su tutto un tratto perdeva l'equilibrio ricadeva giù riversa sulla scaglia rocciosa più di una volta il feroni pur sicuro che essa se alla fine avesse superato il primo poi il secondo poi il terzo scalino fatto un giro nella saletta da pranzo avrebbe voluto ritornare giù al battuto del terrazzo l'aveva presa e delicatamente posata sul primo scalino premiando così la vano ostinazione di tanti anni ma aveva con maraviglia sperimentato che la tartaruga non aveva mai voluto profittare di quell'aiuto inatteso e ritratte la testa e le zampe dentro la scaglia se n'era per un gran pezzo rimasta lì come pietra e poi pian piano voltandosi si era rifatta all'orlo dello scalino dando segni non dubbi di volerne discendere e allora egli l'aveva rimessa giù ed ecco poco dopo la tartaruga riprendere l'eterna fatica di salir da sé quel primo scalino che bestia aveva esclamato il feroni la prima volta ma poi riflettendoci meglio sarà accorto di aver detto bestia una bestia come si dice bestia un uomo infatti le aveva detto bestia non già perché in tanti e tanti anni di prova e se ancora non aveva saputo farsi capace che essendo troppo alta l'alzata di quello scalino per forza nell'aderirvi tutta verticalmente avrebbe dovuto a un punto perder l'equilibrio e cader riversa ma perché aiutata da lui aveva rifiutato l'aiuto che seguiva però da questa riflessione che dicendo in questo senso bestia a un uomo si viene a fare alle bestie una gravissima ingiulia perché si viene a scambiare per stupidità quella che invece è probità in loro o prudenza istintiva bestia si dice a un uomo che non accetta l'aiuto perché non per lecito presare in un uomo quello che nella bestia è probità tutto questo in generale il feroni poi aveva ragioni suoi particolari di recarsi a dispetto quella probità o prudenza che fosse della vecchia tartaruga e per un po si compiaceva delle ridicole disperate spinte che si attirava nel vuoto così riversa e alla fine stanco di vederla soffrire le soleva allungare un solennissimo calcio mai mai nessuno che avesse voluto dare a lui una mano in tutti i suoi sforzi per salire e tuttavia neppure di questo si sarebbe in fondo deluto molto fabio feroni conoscendo le aspre difficoltà dell'esistenza e l'egoismo che ne derivava agli uomini se nella vita non gli fosse toccato di fare un'altra ben più triste esperienza per la quale gli pareva di aver quasi acquistato un diritto se non proprio all'aiuto almeno alla commiserazione altrui e l'esperienza era questa che adonta di tutte le sue dirigenze sempre come egli era proprio lì per lì per raggiungere lo scopo a cui per tanto tempo aveva teso con tutte le forze dell'anima accorto paziente e tenace sempre il caso con lo scatto improvviso di un saltamartino sarà divertito a buttarlo riverso la pancia all'aria proprio come quella tartaruga lì gioco feroce una ventata un buffetto una scrollatina sul più bello e giù tutto non era da dire che le sue cadute improvvise meritassero scarsa commiserazione per la modestia delle sue aspirazioni prima di tutto non sempre come in questi ultimi tempi erano state modeste le sue aspirazioni ma poi sì certo quanto più dall'alto tanto più dolorose le cadute ma quella di una formica da uno sterpo alto due panni non vale agli effetti quella di un uomo da un campanile oltre che la modestia delle aspirazioni semmai avrebbe dovuto far giudicare più crudele quel giochetto della sorte bel gusto difatti prendersela con una formica cioè con un poveretto che da anni e anni stenta e si industria in tutti i modi a tirar su e ad avviare tra ripieghi e ripari un piccolo espediente per migliorare d'un poco la propria condizione sorprenderlo ad un tratto e frustrare in un attimo tutti i sottili accorgimenti la lunga pena di una speranza pian pianino condotta quasi per un filo sempre più tenue a ridursi a effetto non sperare più non illudersi non desiderare più nulla andare innanzi così in una totale remissione abbandonato alla discrezione della sorte l'unica sarebbe stata questa lo capiva bene fabio feroni ma e me speranze desideri e illusioni gli rinacevano quasi a dispetto irresistibilmente erano i germi che la vita stessa gettava e che cadevano anche nel suo terreno il quale per quanto indurito dal gelo dell'esperienza non poteva non accogliergli impedire che mettessero una pur debole radice e sorgessero pallidi con timidità sconsolata nell'aria cupa e ghiaccia della sua sconfidenza tutt'al più poteva fingere di non accorgersene o anche dire a se stesso che non era mica vero che gli sperava questo desiderava quest'altro o che si faceva la più piccola illusione che quella speranza o quel desiderio potessero mai ridursi a effetto tirava via proprio come se non sperasse ne desiderasse più nulla proprio come se non si illudesse più per niente ma pur guardando quasi con la coda dell'occhio la speranza al desiderio illusione soppiatta e seguendoli serio serio quasi di nascosto da se stesso quando poi il caso all'improvviso immancabilmente dava essi il solito sgambetto egli ne aveva sì un soprassalto ma fingeva che fosse una scrollatina di spalle e rideva agro e annegava il dolore nella soddisfazione sapor d'acqua di mare di non aver punto sperato punto desiderato di non essersi illuso per nientissimo affatto e che perciò quel demoniaccio del caso questa volta no questa volta non gliel'aveva fatta davvero ma si capisce ma si capisce diceva in questi momenti agli amici ai conoscenti ai compagni d'ufficio là nella biblioteca ov'era impiegato gli amici lo guardavano senza comprendere bene che cosa si dovesse capire ma non vedete è caduto il ministero aggiungeva il feroni e si capisce pareva che lui solo capisse le cose più assurde e inverosimili da che non sperando più per così dire direttamente ma coltivando per passatempo speranze immaginarie speranze che avrebbe potuto avere e non avere illusioni che avrebbe potuto farsi e non si faceva sarà messo a scoprire le più strambe relazioni di cause ed effetti per ogni minimo che e oggi era la caduta del ministero e domani la venuta del locià di persia a roma e domani l'altro l'interruzione della corrente elettrica che aveva lasciato al buio per mezz'ora la città insomma fabio feroni si era ormai fissato in ciò che gli chiamava lo scatto del saltamartino e così fissato era caduto in preda naturalmente alle più stravaganti superstizioni che distornandolo sempre più dalle sue antiche riposate meditazioni filosofiche gli avevano fatto commettere più di una vera e propria stranezza e leggerezza senza fine prese moglie un bel giorno lì per lì come si beve un uovo per non dar tempo al caso di mandargli tutto a gambe all'aria veramente e gli guardava da un pezzo al solito con la coda dell'occhio quella signorina molesi che stava presso la biblioteca dretta molesi che più gli pareva bella e piena di grazia e più diceva a tutti che era brutta e smorfiosa alla sposina che avendo una gran fretta anche lei si lamentava della troppa fretta di lui disse che aveva già tutto pronto da tempo la casa così e così che la però non doveva chiedere di visitare avanti perché gliela riservava come una bella sorpresa per il giorno delle nozze e non volle dire neppure in che via fosse temendo che di nascosto con la madre o col fratello andasse a visitarla tentata dalle minuziose descrizioni che gliele aveva fatto di tutti i comodi che soffriva e della vista che si godeva dalle finestre e dei mobili che aveva acquistati e disposti amorosamente nelle varie camerette discusse a lungo con lei sul viaggio di nozze a Firenze a Venezia ma quando fu sul punto partì per Napoli certo d'aver così cabbato il caso d'averlo cioè spedito a Firenze e a Venezia da un albergo all'altro per guastargli le gioie della luna di miele mentre egli se le sarebbe godute quieto e riparato a Napoli tanto dretta quanto i parenti rimasero storditi di questa improvvisa risoluzione di partire per Napoli quantunque già un poco avvezzi a simili repentini cambiamenti in lui sia d'umore sia di propositi non si immaginavano che una ben più grande sorpresa li aspettava al ritorno del viaggio di nozze dov'era la casetta il nido già apparecchiato da tempo ed è scritto con tanta minuzia dov'era nel sogno che Fabio Ferroni destinava come tutti gli altri al caso perché si spassasse a distruggerlo a sua posta con qualcuna delle sue improvvise prodezze là in due camerette ammobiliate scelteli per lì in treno ritornando da Napoli tra le tante disponibili negli annunci d'affitti di un giornale si vide condotta dretta appena tornata a Roma l'ira l'indignazione questa volta rupperò tutti i freni finora imposti dalla buona creanza e dalla poca confidenza dretta ai parenti gridarono all'inganno anzi peggio all'impostura perché mentire così far vedere una casa apparecchiata di tutto punto piena di tutti i comodi perché Fabio Ferroni che s'aspettava quello scoppio attese paziente che le prime furie svaporassero sorridendo contento di quel suo martirio e cercandosi con le dita nelle narici qualche peluzzo da tirare dretta piangeva i parenti lo ingiuliavano era bene che fosse così per tutta la gioia che gli aveva orora goduta a Napoli per tutto l'amore che gli riempiva l'anima era bene che fosse così perché piangeva dretta per una casa che non c'era e via poco male ci sarebbe stata e spiegò ai parenti perché non avesse apparecchiato avanti la casetta e perché avesse mentito spiegò che la sua menzogna del resto appariva tale un po anche per colpa loro cioè delle troppe domande che gli avevano rivolte quando egli sul principio aveva dichiarato di aver tutto pronto da tempo e di voler fare alla spucina una bella sorpresa aveva pronto il denaro eccolo lì 20.000 lire risparmiate raccolte in tanti anni e con tanti stenti e la sorpresa che preparava a dretta era questa di darle in mano quel denaro perché pensasse lei soltanto lei a metter su il nido di suo gusto come una necessità e non come un sogno ma per carità non seguisse ella in nulla per nulla la descrizione immaginaria che lui ne aveva fatta un tempo tutto diverso doveva essere scegliesse lei con l'aiuto della mamma e del fratello egli non voleva saperne nulla perché se minimamente avesse approvato questa quella scelta e se ne fosse compiaciuto addio ogni cosa e volle infine prevenirli che se speravano che egli delle loro compere dell'assetto della casa e di tutto quanto si dichiarasse contento se lo levassero pure dal capo perché fin d'ora a ogni modo se ne dichiarava scontento scontentissimo fosse per questo fosse per la cordialità dei padroni di casa buoni vecchi all'antica marito e moglie con una figlia nubile dretta non si affretta più di comporsi il nido rimasero d'accordo coi padroni di casa che avrebbero sloggiato alla nascita del primo figliolo intanto i primi mesi di matrimonio furono un fiume di pianto nascosto per dretta la quale volendo vivere a modo del marito ancora non sarà accorta che gli diceva tutto il contrario di quello che desiderava fabio feroni in fondo desiderava tutto ciò che avrebbe potuto far contenta la sposina ma sapendo che se avesse manifestato e seguito quei desideri in caso le avrebbe subito rovesciati per prevenirlo manifestava e seguiva desideri i contrari e la sposina viveva infelice quando la infine se ne accorse e cominciò a fare a modo suo cioè tutto al contrario di quel che diceva lui la gratitudine l'affetto l'ammirazione di fabio feroni per lei raggiunsero il colmo ma il pover uomo si guardò bene dall'esprimerli si sentì felice anche lui e cominciò a tremarne così pieno di gioia come fare a nasconderla a dichiararsi scontento e guardando la sua piccola dretta già inzinta gli occhi gli si invetravano di lacrime lacrime di tenerezza e di riconoscenza negli ultimi mesi la moglie col fratello la mamma si diede attorno per metter su la casetta la trepidazione di fabio feroni divenne in quei giorni più che mai angosciosa sudava freddo a tutte le espressioni di giubilo della sposina soddisfatta della compiera di questo o di quel mobile vieni a vedere vieni a vedere gli diceva dretta con tutte e due le mani egli avrebbe voluto turarle la bocca la gioia era troppa quella era anzi la felicità la felicità raggiunta non era possibile che non accadesse da un momento all'altro una disgrazia e fabio feroni si mise a guardare attorno e avanti e indietro con rapidi sguardi obliqui per scoprire e prevenir l'insidia del caso l'insidia che poteva annidarsi anche in un grannellino di polvere e si buttava con le mani a terra gattone per impedire il passo alla moglie se scorzeva sul pavimento qualche buccia su cui il medino di lei avrebbe potuto smucciare ecco forse l'insidia era là in quella buccia o forse ma sì in quella gabbia lì del canarino da una volta dretta era montata su un sediolino col rischio di cadere per rimetterla canapuccia nel vasetto via quel canarino alle proteste al pianto di dretta egli tutto arruffato insipido come un gatto fustigato per carità si era messo a gridare ti prego lasciami fare lasciami fare e gli occhi sbarrati gli andavano di continuo in qua in là con una mobilità e una lucentezza che incutevano paura finché una notte ella non lo sorprese in camicia con una candela in mano che andava cercando l'insidia del caso entro le tazzine da caffè capovolte allineate sul palchetto della credenza nella sala da pranzo fabio che fai e lui ponendosi un dito sulla bocca zitta lo scovo ti giuro che questa volta lo scovo non me la fa tutto un tratto o fosse un topo un soffio d'aria o uno scarafaggio sui piedi nudi il fatto è che fabio feroni diede un urlo un balzo un salto da montone e s'affarrò con le due mani il ventre gridando che lo aveva lì lì il salta martino lì dentro lì dentro lo stomaco e dalle a springare a springare in camicia per tutta la casa poi giù per le scale e poi fuori per la via deserta nella notte urlando ridendo mentre dritta scarmigliata gridava aiuto dalla finestra è Grazie a tutti